bambini l'acqua si 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 che Niente, se te la senti, pericoloso, controvare però, eh? E' simile a quel punto che tagliamo senza polvere arabe, che arrivi alla gara, è quel punto che scende giù, che trova la fiumma, che si fa il più capo a metterci dietro, magari così... No? Eh! Ehi! 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 Vito, devi prendere per il manico la bici, se la prendi così non ce la fai, prendi la per il manico, come ho fatto io, e adesso si... Allungamela qua... Tienela, eh! Non la mollare! Si diceva... Siamo tutti! Il fatto è che... Lui si vede ogni volta che va in giro, di zecchi, nelle gambe... Questo era un bel passaggio, aspetta che adesso riprendo l'oro... Ah si! Porca troia, che ne trovo giù sotto! Ce la potete fare, ragazzi... Passaggio semplicissimo... Per nulla rischio... Pitta, te la faccio la ripresa, sei contento? Si! Mi porto! Sorridi... Mi scappa? Eh! Mi scappa non è una barata nostra! Ecco qua! Amici miei, atto te! Ma è che tanto Pitta ce la fa da sola, dai! Ma che la fatti? Oh! E' una mucchiata! E' una mucchiata! E' una mucchiata! Se rimani, ti ho visto il fermo immagine, lì... Certo! E' una mucchiata! E' una mucchiata! Certo! E' una mucchiata! Adesso vuole anche una mano, magari! Eh beh! Pitta, ti vedo che ha lo saldo! Si, ho capito, ma tu sei te! Ma sto qua! Vede che... Pitta lo voglio ripresa! Mola, mola, mola! Mola! Bravo Pitta! Guarda che... Ma guarda che atleta! Dai, che sennò con la bicicletta non ce la farai mai passare! Bravo Pitta! Ma si vede che fa spinning! Guarda un po' lui! Tac Tac! Eh hai visto? Con due tacchette!